Partiamo da un bel disegno, a me piacciono i disegnini e la copertina ci dice già un po', ci dice alcune cose, intanto vediamo un ragazzo, potrebbe essere un giovane, un ragazzo, un bambino, che è al centro di un cortile, è un cortile che riconosciamo perché c'è il campanile di Cappella Pinardi, quindi è il cortile salesiano, che è una delle componenti del sistema preventivo. Ogni realtà salesiano deve riprodurre questo cortile. Questo ragazzo è al centro del cortile, vedete ha in mano un pallone e in mano un libro, quindi il divertimento e l'impegno e ha dei bisogni, ho bisogno di essere amato, ho bisogno di conoscere e ho bisogno di dare un senso alla vita. Queste tre dimensioni tutti noi, prima dei giovani, li abbiamo dentro, tutti noi abbiamo questi tre bisogni grandi, di amare, di essere amati, di conoscere dove siamo, perché siamo qui e quindi di dare senso alla nostra vita. Questo anche nei giovani può essere più o meno consapevole. Cioè questi bisogni ci sono dentro, a volte non ci pensano, però li hanno dentro, tutti. Ecco la risposta al sistema preventivo. Don Bosco lo vediamo rappresentato in alto con un gruppo di giovani. Tra l'altro guardate, il giovane, il bambino, no? E' già proiettato verso una figura che c'è dietro, che è lui cresciuto, no? Ed è cresciuto grazie a tre luci. La ragione, che risponde al bisogno di conoscenza, quindi con la ragione e con l'intelligenza io conosco la realtà, la vita. Con la religione rispondo al mio bisogno di dare senso, il perché ci sono. E poi l'amorevolezza, il bisogno di essere amato. Vedete che già il sistema preventivo risponde con queste tre colonne ai grandi bisogni che tutti noi abbiamo. Tutto questo in un cortile dove c'è tanti altri giovani e degli educatori in mezzo. Questo cortile può essere un cortile salesiano, può essere anche casa nostra, può essere la nostra famiglia. Perché il sistema preventivo può essere anche vissuto in famiglia. Allora, pagina, voltiamo pagina. Troviate un po' lo schema di alcune cose che andrò a dire. E' una spiritualità, c'è un educatore, che parte di una comunità, c'è un ambiente. E poi ci sono le tre colonne che ho detto. Bene? Praticamente trovate quello che dico lì, no? Cioè Don Bosco ha fatto un sacco di cose. Ha costruito un sacco di realtà. Quando è vissuto sulla Terra e anche dopo tramite i salesiani, le figlie di mia esiliatrice. E stupisce davvero quanto Don Bosco si è riuscito a portare nello spazio, oggi 132 paesi del mondo, nello spazio, ma anche nel tempo, quindi 150 anni fa fino ad oggi e anche in futuro, nello spazio e nel tempo abbia portato questa energia di vita. un povero ragazzo che viene dalla campagna, un'energia che porta a avere uno spazio che guarda tutto il mondo e un tempo che non ha tempo perché vale sempre quello che lui ha fatto. Questo stupisce, no? E' un miracolo, uno potrebbe dire. Da dov'è questa esplosione di energia? Da dove parte? Dal suo cuore unito a Dio. da una spiritualità. L'avete fatto l'altra volta e di fatto il sistema preventivo è una spiritualità. E' una comunità salesiana, no? La risposta che Don Bosco ha dato a Dio, nel suo cuore, viene poi raccolta da una comunità cristiana che noi chiameremo CEP, non so se questo termine l'avete già sentito, poi ne parliamo un attimo, che è un'esperienza di chiesa che vuole portare una bella notizia ai giovani. Ho una bella notizia da darti. Don Bosco aveva questa bella notizia e le comunità cristiane che vivono nello stile salesiano ho una bella notizia per i giovani. Dio ti vuole bene. Cura le tue ferite, ti offre gli strumenti per costruire il bene alla tua vita, per trovare il senso. E lo dice in tanti modi, attraverso un cortile, la preghiera, la scuola, il gioco, l'allegria, l'accoglienza. Don Bosco, tutti questi elementi, li riassume dicendo questo è il sistema preventivo. Si forma un ambiente che parla da solo. Ricordate la vicenda di Michele Magone, che arriva a Valdocco, da ragazzo un po' di strada, e dopo un po' di tempo che è nell'ambiente va in crisi, ma una crisi positiva. È un ambiente che parla in positivo e lui che aveva alcuni nodi della sua vita non risolti va in crisi e poi andrà da Don Bosco e si confesserà. Questo ambiente salesiano permeato del sistema preventivo che mette in crisi positiva i giovani. Al centro ci sono i giovani, l'abbiamo visto, però in realtà potremmo dire c'è l'educatore al centro, perché all'educatore si chiede tutto. Sul piccolo trattato del sistema preventivo scrive così Don Bosco, ha scritto queste poche cose, in realtà non c'è un trattato di pedagogia. Gli hanno detto scrivi quello che vivi, ha provato a scriverlo, ma il sistema preventivo si capisce proprio vivendolo, incontrando una comunità salesiana, incontrando dei salesiani che lo vivono. Non si studia sui libri, è un'esperienza di vita. E lui ha provato a scrivere, ha scritto l'educatore deve essere tutto consacrato ai suoi educandi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica, per conseguire il fine, cioè la morale civile, scientifica educazione dei suoi allievi. Tutto consacrato e ha voluto Don Bosco poi dei consacrati, totalmente consacrati a questo. Poi chiaramente anche altri, non anche altri laici, altre persone, però davvero l'educatore, ma anche il genitore, si rende conto dopo un po' che gli viene chiesto tutto. E c'è l'esempio di mamma Margherita. Lui parla di lei come tutta dedita al bene dei suoi figli. Per questi rinuncia a tutto. Mamma Margherita che lascia, no, anche il paese, rinuncia anche a rifarsi una famiglia, se andate a leggere l'amore dell'oratorio. E' interessante vedere come questa donna rimane sola, potrebbe rifarsi una famiglia, non si rifà una famiglia, decide di dire io i miei figli sono miei, non voglio abbandonarli, no? Pur essendo sola, una donna sola in campagna, in quel tempo era davvero una... E così via. Don Bosco queste cose le scrive, tutte le volte che le scrive nell'amore dell'oratorio è come per dire guardate, vi metto questo esempio, mi ricordo di questa cosa e ve la ricordo a voi salesiani perché queste sono cose importanti, non vi scrivo dei pettegolezzi, vi scrivo quello che è importante. E Mamma Margherita per lui è stata veramente importante. Facciamo un piccolo break, sicuramente avete già visto tutti questo pezzo di video, è tratto dalla strena del 2013, proprio sulla pedagogia. Quattro minuti, si riprende Mamma Margherita e poi c'è quel bel esempio della mamma che lavora per i figli e i figli vedono tutto quello che fa. Proviamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.